Sono circa 30.000 i vicentini che hanno un'arma, titoli che vengono rilasciati dal prefetto o dal questore a seconda del tipo di porto d'arma. Quelli in corso di validità nell'anno appena concluso e rilasciati dalla questura sono quasi 25.000. A farla da padrone quelli relativi all'uso caccia, 15.500, seguiti da quelli ad uso sportivo, dalle autorizzazioni di detenzione e infine dalle licenze di collezioni d'armi. Vi ha una grande passione per quanto riguarda l'utilizzo delle armi nella caccia o per uso sportivo. Quello che posso dire è che è più o meno un trend che è simile a quello di tante altre province del nord Italia. Trend stabile in provincia che negli ultimi anni registra una crescita di richieste da parte del pubblico femminile, specie per quanto riguarda il porto d'armi per uso sportivo, requisiti quelli per detenere un'arma che vengono verificati ogni anno. Sistematicamente l'ufficio armi della questura verifica che tutte le persone che hanno il possesso di un'arma a vario titolo siano costantemente in possesso di requisiti che ne hanno consentito il rilascio di questa autorizzazione proprio per evitare che queste armi vengano utilizzate in maniera illegale, abusiva o per commettere reati. L'ufficio armi interviene sistematicamente qualora una persona che detiene un titolo di possesso armi abbia compiuto azioni o sia stato coinvolto in episodi che ci fanno ritenere, anche solamente ritenere, che non sia più in grado di gestire il possesso di un'arma. Episodi che spaziano dalla guida in stato di ebrezza, risse o perché coinvolti in situazioni di litigiosità familiare o di vicinato. A tal proposito, nell'anno appena trascorso sono stati revocati 34 porti d'arma per uso caccia, 28 per uso sportivo e sequestrate 36 pistole e 131 fucili.